Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione web della città, buon martedì 3 aprile, una giornata di cielo coperto anche quella di oggi, qui a Torino dopo la giornata di ieri è attesa anche la pioggia, in questo martedì in questo momento abbiamo cielo coperto con temperature intorno ai 14 gradi circa, siamo verso il mezzogiorno di oggi, temperature che sono destinate a rimanere tali nelle ore centrali del pomeriggio, quindi siamo già i valori massimi che raggiungeremo quest'oggi, è prevista un po' di pioggia, c'è questo rischio nel dopo pranzo, nel primo pomeriggio, ma soprattutto a partire dalle 20 di questa sera quando la pioggia dovrebbe arrivare in città e caratterizzare sia la notte che la giornata di domani. Vediamo adesso alcune notizie di viabilità, cominciando dagli autovelox che oggi trovate sui corsi Giulio Cesare, Grosseto, Trapani, Vercelli, in Lungostura Lazio e in via Botticelli, poi essendo martedì cominciano anche le rilevazioni alle infrazioni al codice della strada con telecamera che dureranno fino a sabato di questa settimana, le troverete su via Chiesa della Salute, via Borgano, via Stradella, via Breglio, via Sospello, via Coppino e sui corsi Vercelli e Palermo. Altre segnalazioni sparse di viabilità, questa sera dall'1 alle 3 sarà chiuso sotto passo di Portapalazzo, piazza della Repubblica, per le operazioni di pulizia meccanizzata e poi vi segnalo due divieti di transito, fino alle 17 di oggi in via Barbarù tra via San Francesco d'Assisi e via Botero per dei lavori edili e fino alle 20 in via San Francesco da Paola tra via Po e via Principe a Medeo, sempre per dei lavori edili. L'ultima segnalazione riguarda invece un semaforo spento con vigili in centro incrocio fino a domani in Corso Dante, angolo via Madama Cristina. Passiamo adesso a vedere alcune notizie che abbiamo selezionato per voi dall'edizione di oggi di Torino Click, l'agenzia quotidiana della città. La prima riguarda l'edizione 2012 di Torino Grand Tour perché sabato 14 aprile riparte la nuova edizione di questo progetto sostenuto dalla regione, dalla provincia, dalla città di Torino, dalla compagnia di San Paolo e dalla fondazione CRT. Si tratta di un programma di percorsi alla scoperta dei tesori culturali e artistici del Piemonte. Quest'anno l'edizione è interamente dedicata al paesaggio e alla natura. Il programma di tutte le visite lo potete già trovare presso l'Info Piemonte di via Garibaldi numero 2 oppure tra i vari siti online che lo ospitano sul sito piemonteitalia.eu. È stata presentata nella giornata di ieri la cabina intelligente di Telecom Italia realizzata in collaborazione con la città di Torino che si trova davanti al Politecnico in Corso Duca degli Abruzzi. È la prima cabina di questo tipo in Italia. Si tratta di un oggetto molto particolare che concentra in sé molte tecnologie, dalla possibilità di accesso a internet wifi, alla consultazione di alcuni siti e portali informativi pubblici, alla possibilità di prelevare delle bici elettriche collegate alla cabina attraverso la tessera tobaica, ancora alla possibilità di rilevare i dati dell'inquinamento con una centralina di rilevazione. Potete trovare qualche dettaglio in più sulla cabina e sulle attività e sul progetto che vede questa come prima antesignana delle future proprio nell'edizione di oggi di Torino. Click che trovate, ve lo ricordo, a partire dalla nostra home page. L'ultima notizia riguarda l'inizio delle celebrazioni per il 25 aprile perché ieri si è svolta nel 2 aprile la cerimonia di ricordo al Pian dell'Otto nella collina torinese. Si è commemorato il 68esimo anniversario della strage in cui persero la vita 27 prigionieri per mano dei nazifascisti, un appuntamento che apre le celebrazioni del 25 aprile di cui vi daremo conto ovviamente nei prossimi giorni, un appuntamento che ha visto protagonisti anche 200 alunni delle scuole torinesi che hanno deposto ognuno un fiore accanto alla lapide dedicata ai caduti. Bene, vediamo adesso alcuni appuntamenti selezionati per voi per questa serata. Cominciando però dal tardo pomeriggio, 18.30, Cinema Romano, un appuntamento dedicato ai soci aiace che possono entrare all'ingresso gratuito fino a esaurimento posti, si tratta della proiezione del film Rabbit Hole, il terzo film di John Cameron Mitchell, un film davvero un po' diverso rispetto ai primi due se li avete visti, che vede come protagonista Nicole Kidman e racconta la possibilità di evadere in un mondo parallelo di controfigure. Come detto si comincia alle 18.30. Per la musica la segnalazione va questa sera alle 20.30 all'auditorium del Lingotto Giovanni Agnelli, ci saranno le concerto Rennes e il Netherlands Kammerkor, diretti da Christophe Pregardien, che eseguiranno la passione di Giovanni di Johann Sebastian Bach. I biglietti sono disponibili a partire da 23 e fino a 50 euro. Si comincia come detto alle 20.30. Chiudiamo col teatro perché al Teatro Astra, questa sera alle ore 21, con biglietti a 18 euro e ridotti a 13, ci sarà in scena Malamore, come resistere al dolore. In scena Lucrezia Lante della Rovere, su testi di Concitta De Gregorio, racconterà storie ordinarie e straordinarie di donne e del loro rapporto con gli uomini. Inizio alle ore 21. È tutto anche per oggi, grazie a Paolo Mosso per la messa in onda, grazie a voi per averci seguito e l'appuntamento ovviamente a domani, augurandovi una buona serata. Grazie a tutti.